Come sempre, se vi piacciono i miei video, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like al video e cliccare la campanella per rimanere aggiornati. Oggi vi faccio vedere il processo di sfumatura nel mezzo di una porta e parafango posteriore di una Volvo XC60. Dopo aver controllato la tinta con le pasticche spruzzate, andiamo nel tintometro e facciamo la tinta. Grazie a tutti. 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 Mano piena. Altra mezza mano. Poi passiamo al raccordo della tinta, abbassiamo a 1,5 bar di pressione e raccordiamo l'area. Ed infine mano di controllo. Controlliamo anche con la lampada se ci fossero macchie o si veda la sfumatura. Passiamo all'applicazione del trasparente, due mani piene. Poi passiamo al raccordo della tinta, abbassiamo la tinta, abbassiamo la tinta, abbassiamo la tinta, abbassiamo la tinta. Poi passiamo a la tinta, abbassiamo la tinta, abbassiamo la tinta, abbassiamo la tinta. Ed il gioco è fatto. Grazie per la visione.